Si è concluso al Museo Giardini di Pitagora di Crotone il progetto delle attività transnazionali di apprendimento, insegnamento e formazione del progetto Cielo, programma of the Erasmus+, che ha rappresentato un importante passo avanti nella formazione dei giovani studenti dell'Istituto Guido Donegani di Crotone. Il progetto Cielo, ovvero Circular Economy Lab and Observatory, ha coinvolto ben 160 studenti e insegnanti provenienti da tre paesi europei. Il progetto è stato guidato dalla dirigente scolastica Laura Laurendi, che ha fatto della sostenibilità dell'economia circolare uno dei pilastri della missione della scuola crotonese. Tutte le buone pratiche, le buone prassi acquisite e tutti i prodotti utilizzati saranno adesso diffusi, ressi pubblici, non solo, ma condivisi con le altre comunità scolastiche in modo tale che docenti e studenti abbiano un terreno comune per utilizzare nuove tecniche, nuovi linguaggi e anche nuovi strumenti. Devo dire che noi dobbiamo avviare questa transizione dalla didattica puramente trasmissiva a una didattica interattiva ed inclusiva e queste sono le nuove metodologie che comunque vengono indicate dal Ministero anche in virtù del PNRR. Giornate bellissime, i ragazzi sono arricchiti nel loro senso della parola, c'è stato uno scambio culturale, c'è stato uno scambio sociale, siamo veramente soddisfatti di tutto quello che è avvenuto e siamo contenti perché effettivamente questo vuol dire crescere, vuol dire trasformare quelle che sono delle coscienze, quelle che sono delle menti e portare avanti progetti importanti. È stata una bellissima esperienza perché non è scontato incontrare ragazzi con diverse culture, di conseguenza si imparano molte cose, si impara dal diverso, quindi abbiamo appreso molto, ci siamo arricchiti tanto e abbiamo degli ottimi ricordi. Abbiamo sicuramente affrontato delle attività con dei sistemi diversi, ad esempio non il classico studio a cui siamo abituati ma ad esempio dei dibattiti in cui ognuno esprimeva la propria opinione ed è sicuramente qualcosa da cui si può imparare veramente tanto, soprattutto se lo si fa con persone che non parlano la tua stessa lingua e che hanno interessi diversi e culture diverse.